Salvatore Colagiovanni, ex assessore della Giunta Battista, Carla Fasolino, consigliera comunale a Palazzo San Giorgio, una coppiata con i Popolari per l'Italia per proporre nuovi progetti utili allo sviluppo di Campobasso. Ho dimostrato quello che io e la mia squadra siamo stati capaci di mettere in campo, vorremmo chiedere ai cittadini di Campobasso la possibilità di continuare un cammino sia insieme alla collega Carla Fasolino, che andiamo in abbinata, sia al candidato sindaco Maria Domenica D'Alessandro. A me sta a cuore Campobasso, quindi Campobasso è una città bellissima e ha le sue mille sfaccettature, alcune sono bellissime, alcune sono da curare e da renderla fantastica. Non abbiamo come città nulla da invidiare a qualsiasi altra città italiana, penso che dovremmo solo imparare ad amarla di più e questo deve partire da chi amministra per dare il buon esempio e per poter far sì che Campobasso non sia un capologo di regione, tra virgolette, provinciale, ma che sia un capologo di regione, tra virgolette, europeo. La domanda scomoda a Salvatore Colagiovanni sul suo abbandono del sindaco durante il mandato è accaduto il 29 dicembre, domanda rispetto alla quale non ha fatto risposte impreparate, c'è un momento in cui anche gli amori finiscono, ci ha detto in sostanza, nel mio caso, ciò che non finisce è l'amore per la città di Campobasso, quando i progetti non vanno in direzione di un amore che deve essere efficiente, efficace e produttivo, è giusto fare delle scelte. Devo rispondere alla mia coscienza. Ma i progetti in una maggioranza sono fatti sempre da diverse anime, diciamo che la città in alcuni punti è stata ferma e questo va in capo al sindaco, non me la sento io oggi di poter analizzare e sarebbe scorretto oggi se analizzo i quattro anni e mezzo di quella giunta. Allora analizzano gli elettori, non mi faccia dire altro, se no dovrei dire che in questi giorni vedo più marciapiedi e strade, vedo un lavoro e un giro che potremmo magari anticipare e non arrivare a questo tempo. Nulla contro nessuno, il mio in bocca al lupo a tutti, spero che sia una campagna costruttiva e di proposte, non di dire quel candidato non parla, perché qui non si tratta solo di parlare, e qui si tratta di fare, di agire e penso che grazie alla mia struttura abbiamo agito con il format Vivi la tua città, nostro, Campobasso in Lop, chi più di lei che ci ha seguito lo sa, abbiamo fatto città dei misteri, abbiamo fatto trasversalmente con componenti delle posizioni, tra cui Carla Fasolino, delle iniziative a costo di essere per l'amministrazione, quindi il mondo degli imprenditori si sono avvicinati alla casa comunale, abbiamo offerto iniziative belle. Infine Carla Fasolino, imprenditrice, ha scelto Salvatore Colla Giovanni, quello che li accomuna è il tema dello sviluppo che parte dal commercio. Campobasso è una città che deve basare tutto sulle attività produttive, sulle piccole e medie imprese, sui piccoli esercizi che vanno valorizzati, sostenuti, aiutati. Sono arrivata in corsa in questa amministrazione, quindi ho impiegato tempo a capire anche la macchina dell'amministrazione e nel percorso ho incontrato la collaborazione di Salvatore Colla Giovanni che mi ha permesso di fare delle belle cose per la nostra città, perché il mio impegno per la città è per i cittadini.